Benvenuti alla quinta puntata del format BP-Cube in forma. Oggi parliamo di normativa per le start-up e il rilancio dell'economia regionale, gli incubatori come motore di sviluppo. Abbiamo con noi il Vicepresidente della Regione Marche e Assessore alle attività produttive Mirko Carloni ed Enrico Battistelli, fondatore di BP-Cube Innovation District. Benvenuti. Buongiorno. Entriamo subito nel caldo della nostra intervista, della nostra chiacchierata. Mirko, le chiedo un breve accenno in merito alla sua carriera politica e soprattutto un piccolo approfondimento in merito al ruolo e gli obiettivi di questa legislatura con riferimento alle iniziative che riguardano innovazione e sviluppo economico della nostra regione. Sulla carriera politica posso solo dire che negli ultimi 22 anni mi sono impegnato nelle amministrazioni pubbliche con incarichi elettivi, di solito per volontà popolare. Ho provato a fare politica da quando ho comprato 18 anni e la mia prima scheda elettorale, diciamo così, ho scritto il mio nome e più o meno ho fatto la stessa cosa in tutte le tornate elettorali. Ho avuto la fortuna di essere stato eletto in comune come consigliere, di fare il vice sindaco di Fano, poi consigliere regionale e anche altre esperienze importanti. Quindi, diciamo così, ho avuto veramente l'onore di poter servire le istituzioni dalle più piccole a quelle più vicine al territorio a quelle più importanti e questo mi ha permesso di fare un bagaglio di esperienza e di conoscenza che credo sia per me oggi un'occasione in più per mettere a frutto quelle competenze, quell'esperienza in un ruolo di governo che i marchigiani ci hanno affidato e per il quale stiamo cercando anche di dare segnali positivi, di cambiamento, ma soprattutto di riuscire a interpretare quelle che sono le esigenze di questa comunità e anche della comunità economica per cercare di traguardare il futuro e dare prospettiva alla nostra amata terra regionale. Assolutamente sì. E per quanto riguarda la seconda parte della domanda, sullo sviluppo economico abbiamo una visione strategica molto chiara che stiamo mettendo a segno con delle riforme perché abbiamo ritenuto con il Presidente Acquaroli e con i colleghi della Giunta che una Giunta regionale che si insedia di nuova legislatura, oltre ad interventi amministrativi, deve fondare delle scelte strategiche con norme e quindi noi stiamo revisionando le leggi regionali che riguardano lo sviluppo economico, in particolare io ho depositato sei proposte di legge e mano a mano le stiamo guardando insieme ai miei colleghi, la prima che ho fortemente voluto e che la Giunta ha licenziato e addirittura il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità con le modifiche anche raccolte anche dall'opposizione con molta cordialità e collaborazione. La prima legge, dicevo, è proprio quella sulle start-up, cioè sulle imprese innovative. E non è un caso che proprio quella legge sia la prima, così come ho proposto una legge sull'artigianato che è una legge quadro e soprattutto la cosa a cui tengo molto che verrà in aula le prossime settimane è una legge che riguarda gli investimenti, la transazione digitale e le filiere e gli ecosistemi industriali. Quella legge è un po' il pilasto di tutto quello che è la nostra visione economica, di sviluppo economico per i prossimi anni. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo facendo prima delle riforme legislative su cui baseremo anche la strategia di partenariato con l'Europa, così come su queste baseremo la strategia di recovery con il governo e con i fondi europei straordinari che arriveranno alle regioni per poter avere una visione olistica dell'economia che parte dall'agricoltura, passando per la presca, l'artigianato, il commercio e l'industria. Senza dimenticare che tutti questi settori, nelle Marche in modo particolare, hanno bisogno di grande innovazione, hanno bisogno di fare trasferimento tecnologico, di fare innovazione di prodotto, di fare innovazione di processo. E per questa ragione la prima legge è quella sui talenti, quella che noi dedichiamo ai giovani in modo particolare perché questa regione ha vissuto un dramma rispetto alle giovani generazioni, specialmente quelle dopo la laurea, perché i dati dimostrano che la fuga di giovani post laurea è davvero qualcosa di storico, quasi di biblico in questa regione e noi dobbiamo fermarla. Per fermare la fuga dei giovani su altre regioni, anche all'estero, non bastano le chiacchiere, servono delle condizioni, delle opportunità che convincano i nostri talenti a rimanere in questa terra. La legge sulle start-up voleva essere questa cosa qua. Benissimo. Enrico, gli incubatori certificati sono il motore dell'innovazione, dello sviluppo economico e dell'attrazione dei talenti. Un vero e proprio polo di attrazione è dell'ecosistema per le start-up? Sì, grazie per la domanda e grazie al vicepresidente che ha spiegato benissimo come la regione sta cercando un metodo innovativo, anche questo dobbiamo dirlo, perché propone una proposta di legge, quindi un qualcosa di molto più grande, di più grande respiro rispetto ai soliti bandi che si concludevano con il tempo solo del bando. Quindi una cosa molto più importante, gli incubatori da anni sono in questo territorio. BP Cube nasce otto anni fa e ha dato sostegno a centinaia di giovani, centinaia di start-up che in questi anni si sono rivolti a noi come incubatore per cercare quali migliori competenze, quali migliori consulenze nel loro campo, nella loro strategia potevano mettere in campo, grazie a una rete di altre ulteriori start-up che trovano all'interno dell'incubatore, perché ormai giunti, dopo questi anni di esperienza, abbiamo uno spazio molto grande, l'abbiamo già detto, abbiamo già parlato di questo spazio di peso in via degli abetti di 1200 metri quadrati che raccogliono più di 30-40 start-up, sempre qui fisicamente. Quindi tutti insieme, nel recchimento che ottengono loro, l'incubatore cerca di trasmettere le migliori competenze qui all'interno di questi spazi. Chiaramente lo facciamo con dei soci, lo facciamo oltre io come fondatore, come ingegnere, con tutti i soci che all'interno dell'incubatore operano e quello che tu hai detto di essere incubatore certificato, anche questa è una cosa molto importante, perché molte sono le strutture che offrono consulenza ai giovani e alle start-up, pochissimi sono gli incubatori certificati. Poco più di 30, ogni anno cambia qualcosa, ma poco più di 30 in tutta Italia, quindi un numero molto limitato. Noi lo siamo da tanti anni certificati e per essere certificati non basta poter raccontare la mia esperienza, il mio background di fondatore, di socio, di ingegnere, ma bensì quello di tutta la struttura, dei metri quadrati, della fibra ottica che offriamo alle aziende e della compagine sociale che tutte insieme riesce a rivolgere ai giovani, alle start-up, i servizi di consulenza. Quindi è fondamentale che ci sia l'incubatore, è fondamentale che la regione sempre più sia connessa con l'innovazione e la strategia che all'interno anche dell'incubatore come il nostro sta avvenendo e continuerà ad avvenire. L'innovazione è l'irrinunciabile elemento di crescita di un territorio. Di recente approvazione, Mirko, la legge regionale sulle start-up innovative. È possibile avere un piccolo approfondimento in attesa del bando con particolare riferimento alle somme stanziate e gli obiettivi che ci si aspetta? Guarda Francesca, la legge sulle start-up, come dicevo prima, è per noi una grande soddisfazione perché è la nostra prima legge, è stata approvata all'unanimità quindi anche dalla minoranza con la quale abbiamo dialogato e raccolto anche delle loro istanze. Abbiamo cercato di mettere al centro il tema dell'innovazione e dell'esigenza per molte imprese che possono essere di due tipi nel caso delle start-up. Possono essere quelle che si dice stand-alone, per cui nascono per crescere e per diventare poi un'azienda più grande, oppure possono essere degli spin-off di altre aziende più grandi che creano una sorta di centro ricerche mitigandolo con l'università o con dei giovani di talento che vogliono dare dei contributi innovativi. Queste due tipologie con questa legge possono trovare il loro terreno fertile, possono, diciamo così, come è avvenuto in questa straordinaria esperienza di B-Cube a Pesaro che ho conosciuto in campagna elettorale, dove qui veramente si sente il fermento di tante persone che creano appunto quello che è l'incubatore, perché molto spesso si chiama così proprio perché genera un clima, genera un metodo dove l'idea viene coltivata fino a farla esplodere in un qualcosa che sta sul mercato e che crea reddito per l'azienda e crea posti di lavoro. Quindi qual è l'interesse della regione? L'interesse pubblico è quello di generare nuovi posti di lavoro, di essere attrattivo per fare investimenti ma anche soprattutto di essere una regione in grado di attrarre e di trattenere in questo caso persone con delle idee. Troppo spesso abbiamo sentito dire ho una bella idea, vado a Milano a realizzarla. Ecco, io questo sinceramente da assessore delle Marche vorrei che non accapitasse mai più. Abbiamo quattro Atenei, un territorio bellissimo che è invidiato da tutti, non possiamo più, diciamo così, stare a guardare e confondere le cose da dire con quelle da fare davanti ad un fenomeno emigratorio senza precedenti. Ecco, fermare l'emigrazione giovanile specialmente quello del placement post laurea è qualcosa che spetta alla politica con una visione strategica. La nostra visione è che le Marche devono diventare un grande incubatore di impresa dove i talenti trovano fertilità, dove possono posizionare la loro crescita, la loro dimensione e come si dice, un place to be. Cioè le Marche devono tornare ad essere un posto straordinario in cui vivere, in cui realizzare le proprie idee e i propri sogni. Enrico, un suo punto di vista e merito? Beh, cosa aggiungere? Il Vice Presidente è stato molto corretto nel dire le Marche come un incubatore. È stato il sogno che ho avuto nel 2013 fondare un incubatore, quindi più di questo non vorrei aggiungere, se non rafforzare questa connessione perché è importante. Abbiamo parlato negli scorsi eventi di come anche un networking evoluto può stimolare, migliorare tutto quello che si può generare in regione. Ecco, sul networking e su renderlo molto evoluto noi ci siamo, con tutti i nostri partner, abbiamo parlato di Confindustria, abbiamo parlato di tutte quelle categorie che troppe volte magari lavorano stand alone, invece noi vogliamo farlo in sinergia con tutti. Come lanciare l'iniziativa sulle start-up? È previsto un evento, un kick-off con il coinvolgimento delle start-up marchigiane? Allora, intanto è previsto un importante finanziamento perché le idee si mettono a terra con i soldi, altrimenti rimangono idee e abbiamo intenzione di mettere in questa fase di iniziale 2 milioni di euro per favorire, oltre che la nascita di progetti imprenditoriali, anche quelli formativi, perché come abbiamo già detto è importante che l'accompagnamento non sia solo sull'idea di business o sulla consulenza generale, ma io ritengo che debba ritornare ad esserci una idea di imprenditorialità che va accompagnata anche con uno sforzo culturale. L'imprenditorialità è una cosa che non si insegna a scuola, tuttavia ci sono invece delle tecniche che vanno, per chi decide di fare l'imprenditore, vanno in qualche modo trasferite. Lo fanno, lo possiamo fare, abbiamo previsto di farlo attraverso i soggetti deputati, attraverso gli incubatori, attraverso le università che devono in qualche modo trasformarsi nella loro parte più specialistica in business school e in quello che serve come competenze per chi decide di fare l'imprenditore e non semplicemente ha un'idea e la mette a sviluppo. Quindi due binari, uno è la formazione per rifavorire l'idea di imprenditorialità. A questo proposito vorrei ricordare che le marche avevano il più alto tasso di imprenditorialità diffusa rispetto al resto d'Italia ed era un nostro primato, dico era perché purtroppo non lo è più e negli ultimi anni questo tasso invece si è abbassato e abbiamo perso anche questo primato. Allora dobbiamo ritornare in auge da questo punto di vista, la cultura marchigiana è una cultura di chi non aspetta i soldi pubblici per fare l'imprenditore e di chi si dà da fare con le proprie forze e con le proprie risorse e quindi questa innata volontà che nasce anche da lontano, nasce anche dalla cultura agricola, di chi appunto da agricoltore ha creato qualcosa, da artigiano ha creato qualcos'altro, tanti nostri grandi industriali hanno iniziato facendo semplicemente gli artigiani, anzi forse particolarmente tutti. Quindi credo che quella cultura dell'imprenditorialità che parte dal basso, dalla tigna, dalla voglia di fare dobbiamo ritrovarla. Quindi due parti, una sulla cultura, sulla formazione e l'altra sull'idea di business e sullo sviluppo di questa idea. Condivide Enrico queste... Assolutamente sì, ci sono termini che sono molto utilizzati, a volte anche troppo invece alcuni rappresentano bene questo fenomeno, quello di rimanere collegati e resistere in questi momenti difficili, chiaramente non lo nascondiamo, noi in questi anni abbiamo cercato di traghettare quelli che avevano idee anche in questo periodo al mercato, perché poi qui lo facciamo lo facciamo con degli eventi dedicati, abbiamo fatto tantissimi eventi online, speriamo quanto prima di tornare fisicamente con eventi proprio dal vivo, quindi live dove al massimo riusciamo ad esprimerci e anche a far capire meglio a tutti i ragazzi, i giovani, gli innovatori che vogliono trovare una risposta nel loro percorso, lo possono trovare qua dentro. Il nostro nuovo sito internet, anche questo già citato, racconta come uno dei nostri pilastri quello di poter fare eventi, perché nel faccia a faccia è lì che scattano poi tutte quelle cose, potrei chiamarli effetti di secondo ordine che solo da remoto non avvengono, quindi quell'empatia che possiamo far nascere noi qui all'interno e trasmettere positività a chi vuole creare l'impresa. È molto importante, molto importante crearlo nelle Marche per le Università, come diceva il Vicepresidente, per gli incubatori, ma soprattutto ancora di più perché credo veramente che sia un territorio incredibilmente bello, non dobbiamo invidiare altri territori perché abbiamo dalla costa al mare il territorio forse più bello in assoluto, lo dico dal marchigiano, ma ci credo veramente, quindi dobbiamo far tornare qui veramente un po' l'importante. Assolutamente sì, condivido. Il settennato europeo è ormai alle porte, quali sono i piani della Regione Marche in merito alle iniziative rivolte ai giovani, al mondo dell'innovazione, all'attrazione e al mantenimento dei talenti? Esattamente, come dicevamo, la legge sulle start-up come quella sugli investimenti, sulla transizione digitale, sugli ecosistemi, le filiere, la legge sull'artigianato, sul commercio sono leggi nuove che appunto vengono fatte in questa fase perché vorremmo diventassero a pieno titolo l'oggetto della trattativa, del partenariato con l'Europa per il settennato e quindi noi i fondi che arriveranno li dedicheremo a questi progetti, quello delle start-up, quello delle transizioni, quello delle attrazioni di investimenti, cioè noi stiamo creando il presupposto culturale e politico e anche giuridico con delle leggi per un disegno generale di come rilanciare l'economia, con i soldi dell'Europa finanzieremo quel disegno politico e questo è il percorso che noi stiamo facendo e che vi ringrazio anche perché ci state qui aiutando a divulgarlo e a farlo sapere perché poi essendo soldi pubblici deve essere condiviso il progetto, la popolazione deve essere informata e soprattutto quello che vorrei è che ci sia conoscenza e consapevolezza che è quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo proprio per dare speranza e prospettiva a molti che magari cercano e cercano di capire cosa fare con un'idea buona, con una giusta innovazione, quindi dobbiamo creare appunto quel clima positivo che favorisce l'impresa ma direi favorisce l'iniziativa ancora prima e al contrario di quando si crea pessimismo, invidia sociale, noi dobbiamo contrastare la paura di mettersi in gioco con una positività e un'accelerazione di questi percorsi dando fiducia, mettendo la mano sulla spalla a chi ha voglia di mettersi in gioco. Enrico, qual è il ruolo degli incubatori per massimizzare questa opportunità? Guarda, abbiamo già parlato di essere dei grandi anche contenitori di talenti e soprattutto di riuscire a mettere a terra anche noi in questi spazi le idee unite alle risorse economiche che finalmente, e aggiungo finalmente, la regione intende inserire nell'innovazione. Gli imprenditori con cui parlo mi raccontano ogni giorno che cercano innovazione, cercano talenti, possono investire sulle cose innovative, non sulle cose viste e riviste, per fare innovazione servono dei luoghi perché nei luoghi destinati a quello succedono cose che non possono succedere in altri posti, non dico che la favola del garage sia da dimenticare come tante volte ancora si racconta ma servono un garage un po' più evoluti e i garage più evoluti sono gli incubatori che molte volte operano anche come posso dire scuole di formazione, il vicepresidente parlava di business school giustamente alle università, noi facciamo un ruolo leggermente successivo a quello delle università perché noi cerchiamo di andare velocemente nel mercato e per andare velocemente nel mercato cerchiamo di fare matching con gli imprenditori quindi con i capitali. Sapete quanti fondi anche nazionali stanno arrivando sempre grazie al lavoro anche della regione, ne posso citare alcuni ma non voglio neanche essere troppo lunghi, in vitalia, CDP, comunque tanti che arrivano e tanti ancora destinati all'innovazione. Facciamo il sistema, credo che sia uno veramente dei metodi principali per poterla tornare, vedere correre finalmente questa regione. Mirko, la regione sta pensando di coinvolgere l'ecosistema delle start-up e degli incubatori certificati in iniziative di internazionalizzazione. Certamente noi abbiamo bisogno di raccontare una storia delle marche che è quella dell'innovazione, di nuove imprese ma soprattutto dei nuovi brevetti che possono entrare a pieno diritto sui mercati. A me vengono in mente di tante aziende che ho visto nascere sotto forma di start-up e oggi sono delle aziende molto importanti che si sono fatte valere, sono diventate competitive, magari facendo cose che nelle marche non c'era nemmeno un distretto industriale intorno. Quindi sono le classiche situazioni dove dal niente è nata un'idea di impresa ed è oggi un presidio anche per tante donne e uomini che ci lavorano. Quindi abbiamo bisogno di aziende evolute che abbiano attrattività per i talenti ma per i giovani laureati, per coloro che magari nelle marche, nelle attività tradizionali del nostro sistema industriale magari non avrebbero trovato lavoro ed è questa la forza delle imprese innovative. Quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di attrarre talenti ma anche di questi talenti farli diventare opportunità e l'internazionalizzazione è un'opportunità. Abbiamo Expo 2021 che è diventato 22 di Dubai e lì faremo la settimana dedicata alle Marche così come faremo anche altre giornate dedicate alle Marche sui mercati nazionali e in quel caso faremo anche un premio dedicato alle startup innovative proprio per dargli visibilità e riconoscibilità internazionale. Credo che mai come ora il momento sia molto positivo per chi ha voglia rimpresa. Siamo giunti al termine della nostra interessantissima chiacchierata e vorrei chiedere a Mirko ed Enrico un ultimo saluto, un'ultima osservazione. Grazie, sì, ricordo il sito dell'incubatore www.bpcube.com troverete tutti i dettagli che abbiamo citato e soprattutto i metodi per raggiungerci. Grazie ancora. Grazie a tutti quanti. Nelle prossime settimane diamo notizia insomma da adesso che uscirà il bando per le startup e quindi seguitici sui siti istituzionali della regione Marche perché appunto dalle parole passeremo ai fatti e uscirà il bando per tutti coloro che vogliono realizzare delle startup. Benissimo, vi ringrazio e ringrazio tutti voi per averci seguito. Arrivederci e a presto. Grazie a tutti.